Colonna portante della Virtus, in senso figurato, ma anche in senso letterale, dati i suoi 2.06 m, è rimasta a Bologna, nonostante le tante voci che circolavano quest'estate. Io sono Alessandra Tropiano e questo è Nice to Meet con Toko Scengeglia. Oggi sono in Bologna con Toko Scengeglia. Toko, bello con te. Grazie a te. Come stai a Bologna? Come è la situazione? La situazione è bella, l'atmosfera è bella e siamo molto entusiati per il start del season. Ok, apprendete un po' l'italiano? Sto provando, sto parlando con i miei tanti italiani e i PZOs, sto parlando solo l'italiano. Ok, ora facciamo un passo nel pass, perché conosco che ti costruite solo le tante di Mosca quando in generale. So, dopo che tu hai alcuni atleti, credo che sei un person che ha dei valori importanti e integrità importante. Non solo solo in basquetball, ma per mantenere l'integrità è molto importante. Sì, ovviamente. Queste sono le cose che ho appena prima prima di fare in basket. Queste sono i valuti che i miei 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 i miei. Mi ha detto sempre che non importa quanto riguarda un giocatore, ma bisogna essere un'unico prima e poi un giocatore. Questo è quello che ho imparato e questo è quello che ho imparato. Queste sono le decisioni semplici per me. Oltre ad essere un ottimo giocatore di pallacanestro, Tocco se la cava bene anche sui banchi di scuola. Non solo una laurea in Sport Management e Legal Skills, ma anche un corso frequentato quest'estate proprio per affinare le sue conoscenze in ambito sportivo. Un altro valore importante per te è l'estudio, perché sei un giocatore che ha anche un giocatore in Sport Management e Legal Skills, quanto è stato difficile per affinare? Non è stato facile, è stato molto difficile. In nostra scuola abbiamo giocatori ogni secondo giorno, molte pratiche. Ma, grazie, la università è stata più flexibile, ma hanno capito che la mia scuola è stata molto bezzata. Quindi mi hanno cercato di aiutare con questo, ma per me la cosa principale è di non perdere. in questo modo, e noi tutti conosciamo che il basquetball è temporale, quindi voglio essere preparato per la prossima carriera in Sport Management. E anche, nel settembre, hai un programma in Sport Management, quindi magari questo potrebbe essere il tuo futuro dopo il fine della tua carriera? Hai parlato di questo? Si, chi sa? Ora non posso dire per sicuramente, ma l'unica cosa che sto cercando di fare è imparare molte cose possibile e cercare di vedere cosa mi piace e cosa non mi piace e per capire in quale direzione dovrei andare per il basquetball. Allora, torniamo ora al presente. Che pensi di coach Banchi? Io mi piace molto, a parte di il nostro compagno del basquetball è molto alto e il suo IQ è molto alto. Io mi sento davvero che è parte della squadra, è uno dei giocatori, uno di noi. E questo è quello che mi piace la più, sul giocatore. Per quanto riguarda l'energia e fare tutto quello che puoi, è un giocatore, è un giocatore che ti dà molta libertà e ti dà molta fiducia e ti dà molta fiducia che è molto importante per i giocatori. E, ovviamente, come ho detto all'inizio, mi piace molto. Ok, passiamo ora al futuro. Se hai bisogno di fare un soggetto per la fine della season che sarebbe il giocatore? Sì, ovviamente. Abbiamo già stato con me due volte e non potremmo il giocatore e questo momento è, spero, sarà un po' diverso. E questo momento è anche capito che tutto è importante, la squadra è importante, quindi cerchiamo che tutto sia possibile in ordine e andare da qui e cerchiamo di venire. Ok, grazie a tutti, Tocco. Grazie.